Jingle Spot Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Il primo faccia a faccia tra Corga e San Paolo e la Lazio può ritenersi positivo. Un summit in pieno centro a Roma per pianificare e gettare le basi per il futuro. L'ex CT del Cile ha assicurato professionalità e risultati, ma serve un mercato oculato e quindi senza sbavature. Come si legge su Repubblica, il primo rinforzo potrebbe chiamarsi Pablo Barrientos, da sempre pupiglio di San Paoli. Vecchia conoscenza del nostro calcio ha indossato la maglia del Catania, il Pitu è in forza al San Lorenzo e il tecnico argentino starebbe spingendo per un suo ritorno in Italia con la maglia della Lazio. Si segue la pista sudamericana anche per rinforzare il pacchetto arretrato. Nelle ultime ore sta prendendo quota la candidatura di José Manuel Rojas, centrale mancino del Belgrano. Il 32enne, il cui contratto scadrà a dicembre prossimo, è un altro pupillo di San Paoli, con cui ha festeggiato la storica vittoria in Coppa America con il Cile. Secondo quanto si evince dalla rassegna stampa in onda su Radio 6, sulla lista della spesa ci sarebbe finito anche un altro sudamericano. Si tratta di Rodrigo Caio, difensore centrale, all'occorrenza anche centrocampista, del San Paolo. Classe 93 andrà in scadenza nel 2018. In Brasile sta facendo davvero bene, tanto da essere inserito dal CT Dunga nella lista dei pre-convocati per la Coppa America. Dotato di doppio passaporto, potrebbe essere tesserato con lo status di comunitario. Il suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, a due passi da Fiugi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residenz Traiano, sulla via Sublacense. Immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane. Avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residenz Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città.